Allora, Rita, un signore volete sapere le marche dove si trovavano e cosa avevano di particolare? Vabbè, ragazzi, ora vi faccio vedere la carta della cartina Geografia. Allora, Spazio, Lombra, Toscana evitano le marche. Dette alla ragione delle marche ci stanno. Allora, ci stanno. Mi sentite a me, c'è Roberta Cavallo, Francesa, Nike, Versace, Irra, Giordano e poi c'è Macella Bullovar. I che stanno già visti nella città, ragazzi. Stanno tutte scritte in classe, hanno tutte le marche. Va bene così, piano piano ci aggiorniamo di comprare la cartina, vedi? Ora mi studo tutte le religioni. Ragazzi, un bacio a stasera.